Siamo partiti innanzitutto con lo stanziare in fase di approvazione del bilancio di previsione 2010 75 mila euro da destinare a questo fondo per il sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà. Abbiamo poi in fase di assestamento deciso come amministrazione di stanziare ulteriori 110 mila euro, quindi un totale di 185 mila euro. Questo contributo si rivolge alle famiglie con almeno un figlio in cui almeno uno dei due coniugi ha perso il posto di lavoro. Inizialmente era nei 12 mesi precedenti al bando che verrà pubblicato, ma poi abbiamo deciso di estendolo anche ai 24 mesi, quindi ai due anni precedenti. Dovranno essere soggetti che hanno un mutuo in essere oppure pagano un affitto nella casa dove sono residenti, una residenza nel comune di Pescara da almeno 24 mesi ed ecco questi sono principalmente i requisiti di ammissione. Dopodiché ci sono una serie di parametri che stabiliscono dei punteggi, ad esempio se ci sono ammortizzatori sociali, se non ci sono, se è una famiglia con un unico reddito e sulla base di questi parametri verranno assegnati i punteggi, ricordo anche il numero di figli, se sono minori, se sono maggiori di età, e sulla base di questi parametri, ripeto, verranno assegnati dei punteggi e sulla base dei punteggi erogato il contributo, che potrà andare da un minimo di 1000 euro a un massimo di 2000 euro per nucleo familiare. Abbiamo deciso di considerare nel nostro target della fascia di persone che vogliamo andare ad aiutare anche coloro che magari non dipendenti ma titolari di partita IVA, quindi professionisti o piccoli imprenditori, piccoli commercianti, stanno vivendo un momento di difficoltà dovuto alla crisi economica globale. Quindi sono stati costretti a chiudere le loro attività, le loro posizioni IVA, pertanto anche Costoro potranno accedere a questo contributo e partecipare al bando comunale.